Tutto ha avuto inizio da qui, anzi da loro, dalle papere e di più dall'amore incondizionato per la loro salvaguardia che Roberto Mazzoleni, pensionato 78enne di Venezia, è costata una multa salatissima, ben 416,80 euro da parte della Polizia Municipale. La motivazione? Violazione del regolamento di igiene ambientale Polizia Urbana, insomma multato perché cura e si prende in carico i pulcini di Germania Reale e Anatre Selvatiche per salvarli dalle grinfie fameliche dei gabbiani, veri predatori di uova e sterminatori, come detto, di pulcini. Quando sono piccole i gabbiani fanno incetta, io mi sono sentito il cuore tenero di raccoglierle, farle venire grandi e poi rimetterle di nuovo in acqua nel suo abito più naturale. Poi gli do da mangiare ogni mattina, gran turco, un po' d'acqua dolce che a loro necessita moltissimo. E non basta che per nutrirli il signor Roberto vada a comprare il mangime a base di granaglie fino a Sant'Erasmo, unico rivenditore veneziano delle 112 isole e isolette della Laguna. La sanzione perché è considerato come il proprietario e tutore delle papere, sebbene avesse più volte specificato di non esserlo, dice. Le ho detto che non sono proprietario, per cui loro mi attribuiscono alla proprietà. Ora Roberto farà ricorso tramite avvocato, folta barba bianca e dall'aspetto che tanto ricorda il celebre nonno di Heidi dei cartoni animati e che qui a Santa Marta gli è valso il soprannome di nonno delle anatre, ex scaricatore al porto di Venezia. In queste ore è tanta la gente che gli sta dimostrando solidarietà anche con la creazione di una colletta per aiutarlo a sostenere le spese cui è costretto. Mi sento molto amareggiato di questa situazione. Qui a Venezia le anatre sono ammirate e fotografate al pari delle sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, diventando oramai parte integrante della città, ricordiamo, patrimonio dell'umanità che in quanto tale va reso accessibile e tutelato.